E' terribile, è terribile, è una cosa del genere. No, Dio mio, non posso più guardare. Non posso più guardare. Che schifo. Che schifo, basta. Basta. Ma il c***o. Ma a veleno mi va tutta la giornata in c***o. Dovrebbero trasmetterle in prima gerata queste immagini e farle vedere a tutto il mondo. No. E' terribile. Madonna. No, 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 no. E se non li salviamo noi e non li aiutiamo noi, chi li aiuta? Chi può farlo? Chi può farlo? Per favore, unisciti a me. Perché è urgente e non abbiamo più tempo. Firma ora, ora, l'iniziativa dei cittadini europei per un'Europa senza esperimenti sugli animali. Senza esperimenti sugli animali. Senza più esperimenti sugli animali. Insieme possiamo farcela. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.